Calcio insieme, la crescita umana e sportiva delle ragazze e dei ragazzi e questo il titolo dell'evento che è stato organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti di Basilicata e che ha visto la partecipazione del Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina e del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Beh sì, è uno degli asset fondamentali sui quali io sto insistendo moltissimo. Il calcio deve riscoprire il valore di questi due asset fondamentali, le strutture, le infrastrutture e i giovani. Beh sì, la riforma è importante, c'è molto fermento. Come avete notato dal momento in cui ho cominciato a parlare della convocazione di un'assemblea per modificare un articolo per togliere il diritto di veto, improvvisamente si è svegliato il mondo del calcio. Io credo che la riforma non è una mia esigenza personale, è un'esigenza di sistema. La realtà della Lega Nazionale Dilettanti è una realtà che vive di tante specificità territoriali, la Basilicata rappresenta una di queste, importante. Ovviamente parliamo di regioni più piccole rispetto ad altre realtà che richiedono degli approcci in termini di politiche di sviluppo diverse, nel senso che non si può fare una stessa politica di sviluppo nel mondo del calcio, di lettantistica giovanile. Gravina, prima di partecipare al dibattito, ha visitato lo stadio Alfredo Viviani di Potenza, campo che ospita la squadra del capoluogo che milita nel girone C della Serie C. Accompagnato dal presidente De Rosso Blu, Donato Macchia e da alcuni dirigenti, Gravina ha avuto modo di visitare lo stadio dopo il restyling che è stato fatto dalla nuova proprietà allo storico campo sportivo Potentino. Donato Macchia